Il sindaco di Eboli Mario Conte allontana le polemiche dei giorni scorsi e dichiara di essere pronto a varare la nuova giunta. Ufficializzati i nomi, vice sindaco sarà Gian Maria Sgritta, che viene anche nominato assessore al bilancio e alle finanze. L'ormai ex vice sindaco Enzo Consalvo mantiene la delega allo sviluppo economico. Assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici sarà Salvatore Marisei. Antonio Corsetto alla sicurezza e legalità, alle politiche sociali pubblica istruzione e piano di zona Cati e Cennamo. Cultura e sport all'Ucilla Polito, all'ambiente e alla rigenerazione urbana Nadia Labrocca. Nessun problema politico dunque, all'interno della maggioranza Conte dunque nessun problema politico, ma un semplice naturale avvicendamento dopo circa due anni dall'elezione dell'ottobre 2021. Semplicemente un avvicendamento di tre assessori non ci sono problemi, è un problema di riequilibrio di quelle che sono le forze nella maggioranza. Sono passati due anni dal precedente varo della giunta, è anche un termine congruo rispetto a vicendamenti che sono avvenuti in tutte le amministrazioni, avvengono in tutte le amministrazioni perché gli assessori sono solo sette, i consiglieri comunali di maggioranza invece sono di più, quindi è ovvio che c'è qualche esigenza, c'è anche qualche desiderio di impegnarsi anche in giunta. Credo che abbiamo fatto fino adesso un ottimo lavoro, hanno fatto un grandissimo lavoro gli assessori che lasceranno, così come gli altri che rimarranno. Chi verrà, questa nuova giunta fatta con questi cambiamenti, continuerà il lavoro che è stato iniziato due anni fa e soprattutto continuerà ad attuare il programma amministrativo e di governo che abbiamo promesso all'elezione e abbiamo sancito in un programma elettorale. Stiamo facendo tantissime cose, adesso accompagneremo anche la indicazione dei nuovi assessori e quindi la nuova giunta, anche con un documento firmato da tutti i consiglieri comunali della maggioranza dove si fa un po' il bilancio di quello che è avvenuto, di quello che è stato fatto e di quello che si farà nei prossimi mesi. Possiamo avere una data di quando sarà varata questa nuova giunta? Penso tra oggi e domani mattina. Domani mattina credo avremo gli atti formalizzati.